Il personale non c'è, stiamo facendo da 3-4 anni turni massa grandi. Abbiamo circa 200 tempi determinati in scadenza ad aprile e questo prossimo aprile. Chiediamo fondi per pagare gli stipendi ai dipendenti, visto che abbiamo anche di questi problemi. Gli angeli del Covid durante la pandemia, ma precari, sotto organico, sottopagati e incerti sul loro futuro. In protesta ai lavoratori al Palazzo della Regione, proprio nella giornata nazionale dedicata al personale sanitario e sociosanitario, che però, lontano dalle promesse e dalle parole, chiede fatti. In scadenza, a giorni, 2.000 domande tra infermieri e operatori sociosanitari. 7.000 sono i lavoratori che sarebbero necessari, che mancano nei presidi ospedalieri, dietro ai numeri le persone. I sindacati evidenziano tra i punti principali l'aumento del tetto di spesa e la questione graduatorie, che mette d'accordo tutte le sigle. Ci sono condizionamenti normativi ed economici, in primis il tetto di spesa, però noi diciamo che tutte quelle azioni che possono essere realizzate a livello regionale vanno praticate e percorse fino in fondo. Chiediamo la stabilizzazione, chiediamo che venga finalmente disegnata la sanità marchigiana del post-Covid. La sanità la fanno le strutture ma la fanno le persone, personale qualificato, personale che è a tempo indeterminato, quindi sa che quello è il suo percorso. Se per caso non vengono stabilizzate quelle 1.400 persone di cui parlava l'assessore, praticamente non si riusciranno a garantire i servizi essenziali nei reparti, quindi la gente non si potrà curare. Al presidio presente anche l'assessore Filippo Saltamartini. È seguito un incontro da cui è emerso che saranno avviati tavoli di confronto e monitoraggio costanti sulla situazione della sanità regionale. Positiva anche l'intenzione comune di voler prorrogare le graduatorie, misure apprezzate dai sindacati, ma che dovranno portare a veri e propri protocolli di accordo applicati da tutte le aziende sanitarie delle Marche. Grazie.